ciao ragazzi sono gossater siamo qui su black mesa ne eravamo arrivati a capito da scordatevi di freeman qui eravamo arrivati a questa poliziotta avevamo attivato la torretta e distrutti questi altri zombie andiamo proseguiamo avanti a vedere cosa c'è vediamo delle cose aliene create vicino a questi muri vediamo dei volte questo è il forte count proprio là le vestitezza vaffanculo forte count no col tasto destro si buttano a missili questi muscerini però non hanno la mira Invece così hanno tipo una tira automatica, questa è nel sinistro, vediamo che si asa, si asa questo portellone, si alza, eccoli su tutte piccole, non sapevo, fa il culo, ma ecco le tavole, dobbiamo andare qui, il tira che a volte avvolgono, ho rigettato, ho migliorato, cosa c'è qui, si, andiamo qua, andiamo a fare attenzione a non essere, venite schiacciati nel muro, bastardo, forse a cazzo stai facendo, non è qua, ho visto che oggi, ricariciamoci, andiamo avanti, questa è la rispettiva capocca, qui è ancora più complicato, attenti perché dobbiamo rilasciere l'incranaccio subito, ragazzi, un bel savergine, che cazzo stai facendo qui, si aveva messo accucciato, aveva paura di prendere il culo, andiamo nel deserto, inizia una canzoncita, tipo, inizia una canzoncita, e vediamo questo noto nelle margherite, oh, cosa ne ho che ci ritrova mai, mancati quando scende a sui, non è io li sparo tutti questi qua, sono anche rossi, vediamo che scappano dai miei moscherini, 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 olive saints... sempre bambino il ac Swee, ma that's Сов, sempre emociate, ma pe ormai sb since... i carini del acu, il caffetto... e ti pareva che arrivavate, e' un'altra parte di teore dai qui oh, cosa mi sa? grazie, grazie grazie, grazie, grazie 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 Non so, dove stanno uccidendo il bombaio? Vediamo dei scarafaggi che uccidono il bombaio. Porca zucca! Ragazzi ce l'abbiamo fatta per un fello da tutta pammato. Proseguiamoci, che è un'ascensura. Speriamo che si sia calmata la situazione. Yes, yes. Che cazzo sta succedendo? No. Lei, lei, lei. Proprio la reazione chimica. Ragazzi cosa dobbiamo fare? Salviamo qui. Poi... Andiamo qui. E abbiamo preso la fisciata finale. Ancora sì. Ancora sì. Scappiamo. Che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta scappando da cosa? Che cazzo sta succedendo? Ce cazzo sta succedendo? Che cazzo stacando a Rodney. Che cazzo sta succedendo? Allora sì. Questa caffè è l'ora di ecoscia. No! Ragazzi, va, c'è il missile. Ma andate a far di ponte. Vediamo un hammer. Dovretto di merda. Sollevo proprio a ponte. Ragazzi, vediamo la targhetta lambada. Quindi siamo arrivati quasi alla conclusione del gioco. Andiamo, attiviamo la corrente. Qui non c'è niente da prendere. Scendiamo giù. Ecco, ragazzi, il nuovo capitolo del reattore lambada. Il capitolo scontaggi di prima ne è durato abbastanza poco. Ragazzi, adesso scendiamo giù. Terminiamo il video. Questo mi sa che deve essere l'ultimo capitolo. Se lo fanno, se lo fanno, se lo fanno, non lo so. Mi sa proprio di sì. Basta fare così, ragazzi. No, cosa cazzo? Sì, ragazzi, comunque, il futuro capitolo. Il capitolo 14 siamo arrivati. Quindi scendiamo questo... Questo ascensore, così ci siamo levati un po' di strada. Ma, ragazzi, alla fine... No, il porcellino mi mancava. Il porcellino... Ragazzi, vediamo un teletransporto, non so, di un forti quanta cosa. Ragazzi... Io termino il video qui. Continuirò il prossimo del reattore lambada. Iscrivete a Trober Bibbs. E... Se lo volete fare, non è una cosa importante. E un saluto a Morxell. Vediamo, è un altro porcellino. Un saluto a Bleakshot. Da Contestator e tutto, anche un saluto da Robert. Alla prossima, ciao!